Ciao e benvenuti nel nostro canale. Leggiamo insieme il messaggio di Nostra Signora Regina della Pace di Anguera, ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e mettere un mi piace a questo video. Ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. Messaggio 5459 di Nostra Signora Regina della Pace, trasmesso il 27 giugno 2023 Cari figli, piegate le vostre ginocchia in preghiera. Vivete in un tempo peggiore del tempo del diluvio ed è arrivato il momento del vostro ritorno. La chiesa del mio Gesù cammina per il Calvario, ma dopo tutto il dolore viene la risurrezione. Non c'è vittoria senza croce. Agli occhi umani tutto sembra perduto, ma credete che Dio ha il controllo di tutto e la vittoria verrà per i giusti. Ancora avrete lunghi anni di dure prove, ma non tiratevi indietro. Il mio Signore vi ama e vi aspetta a braccia aperte. Coraggio! Io pregherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.